di due minuti procediamo con la prima interrogazione che è a prima firma Ceccanti ma credo ci sia l'onorevole Fragomeni per l'illustrazione, prego grazie Presidente, grazie Sottosegretario questa vicenda molto incresciosa che avviene nelle mura scolastiche che vede ormai da tempo delle minacce da parte di alcuni docenti è una situazione che si sta diventando molto complessa anche rispetto al funzionamento dell'istituto stesso io qui chiaramente per quanto di competenza del Ministero dell'Interno chiedo di capire come hanno avuto seguito anche le indagini e l'avvio comunque di una maggiore intensa verifica di quello che è accaduto in questo istituto dove appunto c'è una serenità che si è andata perdendo e che in qualche modo, specialmente quando riguarda le nostre scuole, penso che il Ministero debba porre la debita attenzione e quindi spero che da questo punto di vista ci sia attivato il Ministero per capire a che punto sono le indagini su queste spiacevoli vicende che vedono minacciate del corpo docente grazie, prego Sottosegretario grazie Presidente, onorevoli colleghi gli onorevoli interroganti fanno riferimento al ritrovamento nel mese di dicembre del 2020 di biglietti anonimi contenenti frasi offensive rivolti a due insegnanti dell'istituto scolastico superiore Greppi di Monticello-Brianza in provincia di Lecco il prefetto di Lecco ha in proposito acquisito elementi di informazione dei quali emerge che l'episodio in questione è stato immediatamente denunciato dal dirigente scolastico alle competenti autorità e comunicato all'ufficio scolastico territoriale di Lecco risulta inoltre che le insegnanti destinatari degli iscritti anonimi hanno presentato al comando stazione carabinieri di Casate Novo due distinte denunce quellele contro i gnoti per il reato di disturbo o molestia alle persone di cui l'articolo 660 del codice penale la stazione dell'arma dei carabinieri di Casate Novo ha trasmesso gli atti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Lecco e il procedimento penale che ne è scaturito è stato archiviato lo scorso 17 dicembre 2021 l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha altresì comunicato che non risulta che tali episodi abbiano cagionato ripercussioni nell'ambiente di lavoro e che in sede di collegi e docenti è stata espressa la totale solidarietà agli insegnanti coinvolte lo stesso ufficio scolastico regionale ha evidenziato come nonostante gli episodi descritti l'istituto scolastico in questione continua a rappresentare un consolidato modello formativo sia a livello locale che nazionale sottolineando di non aver ricevuto nessuna segnalazione di criticità in relazione al regolare funzionamento e alla puntuale erogazione del servizio scolastico al di là delle difficoltà generate dall'emergenza pandemica inoltre dai dati disponibili e dalle percezioni relative alla coesione della comunità scolastica non emergono aspetti che pregiudichino l'efficacia e la qualità della didattica come riconosciuto unanimemente dalla comunità territoriale di riferimento Prego Fragomeni Grazie Presidente almeno c'è una risposta rispetto alla chiusura delle indagini che nessuno appunto sapeva prima di oggi io l'avviso perché avevo fatto chiaramente anche le interrogazioni al Ministero dell'Istruzione quindi questa questa partita la conosco già informo però che andrà avanti perché continuano le segnalazioni di altri docenti quindi il comportamento e quello che sta succedendo nell'Istituto Grappi non è concluso le vicende continuano ci sono altre segnalazioni arriveranno molto probabilmente anche delle denunce rispetto al mobbing e altre cose quindi il problema è molto sentito a me dispiace sapere che sia stata archiviata io avevo chiesto anche nelle precedenti interrogazioni una questione che poteva essere indagata in modo più puntuale perché eravamo durante la DAD gli accessi erano controllati erano limitate le persone che potevano anche aver inserito quei biglietti anonimi dove minacciavano gli insegnanti di lasciare l'Istituto e quindi sono molto dispiaciuto del fatto che sia stata affrontata in questo modo una vicenda che continua continuerà è molto lesiva perché i docenti sono molti alcuni sono andati in pensione e hanno fatto reale e puntuale relazione all'ufficio scolastico regionale quindi sono agli atti una serie di denunce che stanno continuando quindi io continuerò a sollevare la questione perché altre questioni penali riguardano questo istituto che ahimè sta vivendo una stagione molto negativa e il fatto che i ministeri l'affrontino solo da un punto di vista burocratico mi allarma e mi preoccupa quando si parla di didattica si parla di un valore dell'insegnamento e la libertà dell'insegnamento in una scuola grazie procediamo con la seconda interrogazione prima firma De Carlo prego collega De Carlo sì grazie presidente purtroppo a causa della guerra in Ucraina sono milioni di persone costrette ad abbandonare le proprie vite per fuggire al conflitto e se in questo momento accoglierle è certamente una priorità non possiamo mettere in secondo piano tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi due anni e quindi la tutela anche la tutela sanitaria dei cittadini italiani deve rimanere anche essa una priorità tuttavia a seguito di varie interlocuzioni avute sul territorio sul mio territorio il frimezza Giulia pare che non ci sia un concreto monitoraggio sul triage sanitario che secondo la normativa vigente fino ad oggi dovrebbe essere effettuato entro 48 ore dall'arrivo in Italia quindi vorrei sapere in che modo si sta intervenendo il governo per assicurare che in Italia non si sviluppino focolai a seguito degli ingenti arrivi si intende adottare le regioni interessate dai flussi in entrata delle risorse umane e economiche necessarie prego sottosegretario grazie presidente gli onorevoli interroganti chiedono in riferimento all'afflusso di profughi dall'Ucraina iniziative per garantire la sicurezza sanitaria sia dei profughi sia delle comunità di accoglienza con particolare riferimento alle misure anti-covid come noto per quanto riguarda la gestione dell'accoglienza il governo ha emanato diversi provvedimenti di urgenza che insieme con alcune ordinanze di protezione civile ha delineato un modello coordinato di governance multilivello che vede operare in stretto raccordo tra loro il Dipartimento della Protezione Civile le altre amministrazioni centrali dello Stato interessate le regioni e le province autonome le prefetture gli enti locali e i soggetti del terzo settore è infatti essenziale operare in un contesto di leale e fattiva collaborazione per il conseguimento del comune obiettivo di fronteggiare la fase emergenziale mettendo al sistema le specifiche competenze ed esperienze di ciascun attore anche al fine di ottimizzare l'impegno delle risorse stanziate dal governo quanto alle preoccupazioni di carattere sanitario già con ordinanza numero 873 d'inizio marzo il capo del Dipartimento della Protezione Civile ha risposto prescrizioni in materia di profilassi anti-covid e vaccinazioni anche per altre malattie nonché di isolamento fiduciario dei profughi ucraini con riguardo alla citata ordinanza di protezione civile lo scorso 8 marzo il Ministero dell'Interno ha diramato il prefetto una specifica circolare esplicativa che ha tra l'altro evidenziato l'obbligo per i profughi ucraini di sottoporsi a tampone entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale con successivo regime di autosorveglianza per i 5 giorni successivi la circolare ha altresì richiamato l'obbligo di indossare le mascherine FP2 anche in occasione dell'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per raggiungere le strutture di cura o assistenza sanitaria il domicilio o altro luogo di accoglienza previo a testo molecolare effettuato nelle 72 ore precedenti o testo antigenico effettuato nelle precedenti 48 ore inoltre il Ministro della Salute ha comunicato che con propria circolare del 3 marzo 2022 è stato richiesto alle regioni di allertare le aziende sanitarie locali ai fini dell'individuazione per disposizione di risorse necessarie sia per l'esecuzione dei test diagnostici anti-covid sia per la somministrazione di vaccini anti-covid e delle altre vaccinazioni di routine raccomandate è stato richiesto alle ASLE di assicurare le necessarie attività di sorveglianza e prevenzione profilassi vaccinale anche in relazione alle altre malattie infettive richiamando in particolare l'attenzione sulla precoce identificazione delle persone con esigenze particolari e specifiche vulnerabilità quali minori stranieri non accompagnate e donne in stato di gravidanza inoltre col decreto legge 21-22 è stato assicurato lo stanziamento di risorse finanziarie nel limite di 152 milioni di euro per l'anno in corso da destinare alle regioni per le prestazioni sanitarie a cui accederanno i profughi ucraniani non appena con rilascio della protezione temporanea verranno iscritti al servizio sanitario nazionale a riguardo un'ulteriore ordinanza di protezione civile è stato lo scorso 29 marzo l'881 che equipare i richiedenti protezione temporanea ai cittadini italiani all'accesso al servizio sanitario nazionale l'ordinanza riconosce inoltre alle regioni un rimborso forfettario di circa 1500 euro pro capite per quanto riguarda infine la provincia di Trieste la prefettura ha comunicato che è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 18 un servizio di screening sanitario a chiamata dalle forze di polizia previsto per i migranti in arrivo attraverso la cosiddetta rotta balcanica tale precede è stato utilmente messo in campo anche in favore dei cittadini ucrani appena giunti sul territorio nazionale che abbiano necessità di effettuare tamponi ai fini della loro accoglienza presso strutture gestite per conto della prefettura prego De Carlo sì grazie presidente ringrazio anche il rappresentante del governo che sa essere particolarmente attento al tema in particolare a quanto avviene in Friuli Venezia Giulia tuttavia non posso ritenermi del tutto soddisfatta perché il tema che tenevo a porre l'attenzione del governo era proprio un altro nel senso siamo tutti d'accordo sul fatto che ci siano degli obblighi da rispettare ma a seguito appunto dell'introduzione avutile pare che manchi proprio lo step successivo non parlo di quanto avviene in Friuli Venezia Giulia perché pare che comunque il sistema funzioni e quindi ci sia una comunicazione anche con il sistema sanitario ci sia anche un certo monitoraggio il tema su cui sarebbe necessario occorre l'attenzione e ciò che concerne invece chi chiaramente transita attraverso Friuli Venezia Giulia sia anche in altre distrazioni dove non mi pare che ci sia la certezza comunque il modo di far sì che sia in qualche modo sicuro che si possa in qualche modo avere un riscontro rispetto all'effettuazione dei triage dei vari obblighi sanitari quindi io insomma considerato comunque quanto abbiamo passato in Italia considerato anche comunque la stagione turistica alle porte considerato anche il fatto che comunque nei prossimi mesi sappiamo che con la bella stagione anche l'altro fenomeno seppur simile comunque con certe differenze quello della ruta balcanica tenderà ad aumentare ritengo che sia forse più necessario cercare di canalizzare risorse umane ed economiche sul confine in modo che questo tipo di triage possa avvenire in quella circostanza quindi insomma ci tengo a far sì che il governo possa porre maggiore attenzione rispetto a questo tema grazie grazie a lei procediamo con la prossima interrogazione firma Paolo Nicolò Romano prego collega grazie presidente varie pubbliche amministrazioni per cui il ministero degli interni utilizzano software antivirus Kaspersky un'azienda russa con sede a Mosca fondata da un ex agente KGB visto che un antivirus ha bisogno di collegarsi quotidianamente all'internet per scaricare aggiornamenti che non vi ha alcuna possibilità di controllo preventivo quindi creando un possibile rischio vorrei visto anche le parole di Franco Gabrielli sottosegretario che ha sostenuto la necessità di sostituzione cosa che però non concilia con invece quanto scritto nel decreto Ucraina che prevede una diversificazione di prodotti in uso volevo capire dal ministero degli interni per quanto riguarda ovviamente la competenza del ministero degli interni e delle sue agenzie sottoposte se intende continuare a utilizzare software proveniente dalla federazione russa in affiancamento ad altre soluzioni oppure procedere a una sua sostituzione come invece sostenuto da Gabriele sottosegretario grazie presidente gli onorevoli interroganti con riferimento al software antivirus prodotto dalla società russa Kaspersky utilizzato anche nella pubblica amministrazione chiedono se il ministero dell'interno a seguito delle recenti normative in materia intendo meno di smettere l'utilizzazione con riguardo all'utilizzo di prodotti di sicurezza informatica provenienti da produttori legati alla federazione russa in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legge 21 del 22 e per quanto concerne il ministero dell'interno una prima ricognizione operata presso l'articolazione dipartimentale ha fatto emergere la situazione che ritengo utilizzare nel dettaglio il dipartimento per gli affari interni e territoriali ha comunicato l'avvenuta ultimazione della disinstallazione dei prodotti Kaspersky da tutti i servizi server e client dipartimentali e la sostituzione con software di diversa provenienza il dipartimento della PS della pubblica sicurezza e il dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione hanno riferito che non utilizzano software Kaspersky il dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico della difesa civile ha rappresentato che sta provvedendo all'attuazione di quanto prescritto dalla citata disposizione normativa nel cui ambito è stata prevista anche la sostituzione di software provenienti da fornitori legati alla federazione russa pur costituendo soltanto una parte degli antivirus sinora in uso nelle morie del completamento di tale iniziativa sono stati dotati fin dall'inizio del conflitto in Ucraina in Ucraina i necessari accorgimenti tecnici finalizzati ad impedire azioni di sottrazione di dati o azioni di sabotaggio informatico ai danni dell'infrastruttura informatica del predato dipartimento infine il dipartimento per l'amministrazione generale per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali finanziarie ha reso noto che presso l'infrastruttura server presente nel data center del dipartimento è utilizzato un antivirus di un'azienda non legata alla federazione russa e che sono già state avviate le attività amministrative e contrattuali per la sostituzione nel miglior tempo tecnico possibile del prodotto Kaspersky già in uso su altri apparati nel contempo sono in corso di svolgimento attività tecnologiche per il costante monitoraggio della rete di trasmissione dati del dipartimento e dei relativi end point prego Romano grazie presidente grazie sottosegretario è stato molto molto chiaro e si è capito finalmente che il ministero degli interni non utilizza più software proveniente dalla federazione russa con questo però vorrei anche che possibilmente anche nei decreti ci fosse la stessa chiarezza perché nel in quel decreto sinceramente non è molto chiaro tant'è che l'azienda Kaspersky attualmente sta ribaltando la situazione continuando a vendere anzi addirittura in questi giorni sta facendo una promozione uno sconto o dumping se vogliamo proprio per vendere i suoi prodotti alla PA quindi se posso permettervi di dare un consiglio al governo magari un futuro provvedimento di essere più specifici e chiarire anche questo aspetto anche per le altre amministrazioni pubbliche grazie grazie a lei andiamo avanti con l'interrogazione prima firma frate c'è il collega ferri per l'illustrazione prego grazie presidente sottopongo al ministero dell'interno il problema relativa a una circolare la 64 97 del 6 ottobre 2021 che riguarda le indicazioni fornite agli ufficiali di stato civile dei comuni e le condotte da tenere per la trattazione delle domande di cittadinanza dico questo perché questa circolare secondo me non tiene conto di un orientamento consolidato della giurisprudenza sia delle corti d'appello che della corte di cassazione e cito nell'introgazione questi provvedimenti giudiziari invece va a riprendere un orientamento isolato della corte d'appello quindi nemmeno della corte di cassazione in tema di cittadinanza per quanto riguarda le persone di nazionalità brasiliana in particolare questa circolare in relativo alle domande di cittadinanza iure sanguinis nelle quali si è vantata una discendenza da avo non interessato dalla cosiddetta grande naturalizzazione brasiliana dal 1889 da priorità a queste e lascia invece diciamo indietro tutte le altre domande quindi questo sta bloccando gli uffici di stato civile e crea una disparità anche di trattamento tra l'altro oggetto l'interpretazione dell'articolo 11 comma 1 numero 2 del codice civile del 65 che è ben interpretato secondo me dalla giurisprudenza che ho citato della cassazione che porta invece a perdita della cittadinanza italiana per effetto dell'ottonimento della cittadinanza in un paese estero quando c'è una chiara volontà di acquisto della cittadinanza straniera sulla base di un'apposita manifestazione quindi occorre la manifestazione prego sottosegretario grazie presidente gli onorevoli interroganti chiedono di rivedere la posizione espressa dal ministero dell'interno con circolare 6497 in data 610 2021 che invita a dare priorità nella definizione delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza iuresanguis a quei richiedenti cui avi non siano stati interessati della cosiddetta grande naturalizzazione italiana per inquadrare correttamente i termini della questione è opportuno premettere che il riconoscimento della cittadinanza iuresanguis non rientra nel potere concessore del ministero dell'interno come viceversa l'attribuzione della cittadinanza per residenza per matrimonio essendo invece rimesso all'esclusiva competenza degli uffici dello stato civile in Italia e all'estero in tale materia il ministero dell'interno ha soltanto un potere generale di indirizzo per gli aspetti di cittadinanza che giuridicamente si distingue nettamente dall'attività di accertamento e certificazione proprio degli uffici di stato civile comunali e delle rappresentanze consolari è altresi utile ricordare che nel corso dell'ultimo decennio si è registrato un forte incremento delle richieste di riconoscimento della cittadinanza per discendenza formulate da parte di cittadini stranieri soprattutto sudamericani si tratta di richieste di complessa gestione per la vetustità delle situazioni da esaminare e della normativa applicabile con conseguente difficoltà di operare un mutuare vaglio della documentazione legata più in dettaglio il ministero degli affari est e della cooperazione internazionale ha stimato che presso i consolati d'Italia in Brasile risultano presentate decine di miliardi di domani di riconoscimento dello status civitatis si soggiunge che l'attribuzione della cittadinanza brasiliana agli uressoli agli emigrati in col paese alla fine del XIX secolo a seguito della coserta grande naturalizzazione sancita da un decreto del 1889 dalla neonata Repubblica Brasiliana poteva comportare per i nostri nazionali la perdita della cittadinanza italiana stante il deposito vigente allora sino al 1912 dell'articolo 11 del nostro Codice Civile del 1865 che fra le cause di perdita della cittadinanza italiana annoverava la fattispecie dell'ottenimento di una cittadinanza straniera gli interroganti evidenziano come la giustizia formatesi sullo specifico argomento non sia univoca citando in particolare quale interpretazione di forme rispetto a quella operata dalle due sentenze richiamate nella circolare del Ministero dell'Interno la recente sentenza della Corte d'Appello di Roma sezione 1 civile dell'8 ottobre 2021 giova peraltro sottolineare che in seguito alla pronuncia citata la medesima sezione della Corte d'Appello di Roma decidendo in merito a casi dei cittadini italiani immigrati in Brasile nel corso del XIX secolo ha ritenuto inequivocabile che con l'accettazione dell'avvenuto acquisto della cittadinanza brasiliana si sia formata la contestuale rinuncia tacita quale italiana alla luce del disposto della richiamata disposizione del Corte civile del 1865 respingendo pertanto la domanda di riconoscimento giure sanguis della cittadinanza e dei discendenti a titolo di ulteriore approfondimento e tenuto conto dalle rilevate difformità giurisprudenziali si è ritenuto di investire nella questione della Corte di Cassazione presso la quale è già incardinato ricorso per il quale la stessa avvocatura generale dello Stato ha formulato istanze di trattazione celere e di rimissione alle sezioni unite la Suprema Corte ha fissato il prossimo 12 luglio l'udienza d'esame nella memoria dell'esame da parte della Suprema Corte il Ministero dell'Interno con la circolare del 6 ottobre 2021 e in analogia alle direttive emanate per i consolati del Ministero degli Affari Est e della Cooperazione Internazionale ha segnalato agli ufficiali dello Stato Civile e dei Comuni la possibilità di dare priorità alla definizione delle pratiche di cittadinanza iure sanguis nelle quali si è vantata la discendenza da dante causa non interessato della grande naturalizzazione brasiliana in vero l'acquisizione del giudizio della Suprema Corte potrà consentire all'amministrazione di orientarsi con sicurezza di fronte alla complessità interpretativa della miteria e di evitare l'assunzione di decisioni passibili di annullamento successivo e il rischio di esposizione dell'erario a ingenti oneri di spesa prego Ferri grazie ringrazio il sottosegretario ha chiarito in parti i punti è importante aspettare questa pronuncia del 12 luglio che ormai è vicino il fatto che l'avvocatura abbia fatto un'istanza di trattazione penso che sia importante perché comunque sta disorientando tanti uffici degli stati civili di vari comuni sta bloccando e sta pesantendo non solo la burocrazia di queste domande di trattazione perché sono tutte accantonate e poi sta creando un contenzioso perché questo orientamento e questa circolare che ha preso ha condiviso una parte minoritaria dell'orientamento della Corte d'Appello sta creando tra l'altro difficoltà e quindi le istanze legali che stanno arrivando nei vari uffici sono sempre più numerose quindi è bene che ci sia una una modifica della circolare in attesa della decisione della Cassazione anche perché l'udienza il 12 luglio però poi non si sa se la sentenza possa uscire subito e quindi quando verranno depositate le motivazioni e quindi nel frattempo che il Ministero chiarisca con una circolare di tornare ai vecchi criteri e quindi di interpretare l'articolo 11 comma 1 numero 2 del Codice Civile del 65 così come è stato sempre interpretato e dando peso che è quello importante alla volontà di acquisto della cittadinanza straniera quindi io manifesto la mia volontà ed è giusto tener conto di quella manifestazione nel decidere quale cittadinanza avere e quindi quella conseguire grazie comunque per l'impegno del Ministero e mi auguro che si possa arrivare a una decisione procediamo ora con l'interrogazione prima firma Ravetto prego collega Ravetto grazie Presidente Sottosegretario c'è un fenomeno grave che va affrontato con emergenza che è relativa alle aggressioni sessuali di donne sul nostro territorio a opera di immigrati irregolari un fenomeno che arriva in l'evanza nazionale considerato che la popolazione carceraria e quindi detenuti immigrati già attualmente sono cinque volte i detenuti italiani relativamente alle aggressioni sessuali parliamo di 1420 a fronte di 1923 che naturalmente vanno rapportati però su 58 milioni di cittadini italiani e c'è un tema specifico attuale sulle grandi città in particolare noi abbiamo portato l'esempio di Milano un esempio particolarmente grave abbiamo assistito a sette stupri in tre giorni ne abbiamo riportato uno ai danni di una studentessa di vent'anni in pieno centro zona Bocconi ad opera di un immigrato marocchino di 29 anni prontamente individuato dalle forze dell'ordine perché le forze dell'ordine intervengono sempre in questi casi e poi quando portato presso la sede delle forze dell'ordine si è scoperto che addirittura era già schedato per altri reati relativi alla ricettazione potremmo portare altri esempi sempre in zone centrali Brera Corso Buenos Aires chiediamo quindi se il mistero ha un piano specifico per affrontare questo che ormai è un fenomeno inaccettabile prego Presidente gli onorevoli interroganti presento evento criminoso perpetrato da un cittadino extramunitario ai danni di una donna a Milano chiedono iniziative per rafforzare le misure di sicurezza in città con riguardo all'episodio specificatamente menzionato dagli onorevoli interroganti avvenuto lo scorso 6 febbraio nel centro di Milano il prefetto ha riferito che le capillare attività di indagine tempestivamente avviate dall'arma dei carabinieri hanno consentito di raccogliere gravi indizi di reità a carico di un cittadino marocchino senza fissa dimora nella notte del 19 marzo scorso in Milano il prefetto è stato localizzato tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di San Vittore in esecuzione di decreto di fermo di indiziato di delitto emesso il 16 marzo scorso per il reato di violenza sessuale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per quanto concerne le iniziative intraprese per assicolare una maggiore incisività all'azione di contrasto alla criminalità del capoluogo Lombardo informo che negli ultimi mesi sono stati intensificati i servizi ordinarie di controllo del territorio sensibilizzando tutto il personale a procedere all'identificazione di soggetti che evidenziassero atteggiamenti e comportamenti sospetti verificando per gli stranieri la posizione sul territorio nazionale per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti di allontanamento l'intensificazione dei servizi è riguardato l'intero territorio cittadino con specifica attenzione alle zone isolate e con scarsa illuminazione nonché le aree verdi in questo senso un grande impegno è stato richiesto ai commissariati sezionali che hanno organizzato servizi straordinari nelle zone più sensibili dei rispettivi territori avvalendosi anche delle risorse del reparto prevenzione crimine Lombardia per potenziare in maniera mirata i servizi di prevenzione inoltre è costante l'azione di contrasto all'immigrazione clandestina con attivazione delle procedure di espulsione da parte della locale questura per quanto riguarda i presidi delle forze di polizia presenti sul territorio si rappresenta che la questura di Milano ha un organico di 3.212 unità che dopo l'ultimo incremento disposto in febbraio per la precisione di 96 uomini sarà ulteriormente aumentato di 50 effettivi nel prossimo mese di giugno con riferimento alla città metropolitana di Milano l'arma dei Carabinieri è presente con una forza effettiva di 6.163 unità mentre la Guardia di Finanza può contare su 1.569 effettivi per l'arma dei Carabinieri si segnala il potenziamento del nucleo operativo ecologico e l'invio di unità di rinforzo al comando provinciale per i servizi di controllo del territorio a riguardo si precisa che nell'ambito del piano di potenziamento in atto ieri dall'8 febbraio ai 2.222 dispone del supporto di 50 unità delle squadre di intervento operativo che integrano il dispositivo ordinario di controllo del territorio nel capoluogo per l'effettuazione dei cosiddetti servizi ad alto impatto per la Guardia di Finanza si rappresenta che i presidi dipendenti dal comando provinciale di Milano sono stati incrementati nel mese di febbraio scorso con 14 unità segnala inoltre che nell'ambito dell'operazione strade sicure sono stabilmente destinati alla provincia di Milano 611 militari che concorrono nei servizi di vigilanza a siti di obiettivi sensibili ricordo poi che a livello nazionale sono stati previsti quattro piani assunzionali finalizzati a ritienimento delle carenze di organiche in attuazione delle quali verrà autorizzato per quest'anno il reclutamento nella Polizia di Stato di 961 unità circa un quinto delle 5251 unità programmate a partire dal 2018 e destinato a concludersi nel 2025 le attività di controllo del territorio si gioveranno anche di una migliore organizzazione e presidi dello Stato grazie all'istituzione di 42 distretti corrispondenti agli ambiti territoriali dei municipi delle quattro grandi città Milano Roma Napoli e Torino destinate a svolgere con riguardo agli stessi ambiti una funzione di riferimento rammento infine che dallo scorso 14 marzo in 18 città italiane tra cui ovviamente Milano gli operatori della Polizia di Stato dell'Arma dei Carabiniere e la Guardia di Finanza sono stati provvisti dell'arma in pulsi elettrici meglio nota col nome di taser la distribuzione dei 4482 dispositivi sarà gradualmente estesa sul territorio a partire dal mese di maggio mi permetto di aggiungere all'attere della risposta scritta e porto ovviamente all'attenzione della commissione competente che oggi noi abbiamo un problema grande un problema enorme legato al contingente dell'operazione strade sicure proprio oggi terminano il contingente straordinario di 753 uomini ad oggi non è stato rinnovato e a seguito di una norma votata nella legge di bilancio del 2020 è prevista una rimodulazione con un taglio di 2.000 unità 1.000 nel 2021 1.000 nel 2022 che porteranno il contingente dell'operazione strade sicure a 5.000 unità e quindi dando sensibilmente l'immagine di un arretramento della prevenzione e del controllo del territorio da parte delle forze di polizia nonostante gli interventi di assunzione che sono stati fatti e che sono in corso e che si prospettano dal 2017 sino ad oggi io ritengo che debba essere oggetto proprio perché le richieste di sicurezza e di allarme sui territori e di maggior aumento della capacità delle forze di poter intervenire per garantire sicurezza dei cittadini debba essere tenuto alto io pongo l'attenzione della commissione che rappresenta parte del Parlamento una tematica che secondo me è una tematica importante rispetto alle quali la politica e ovviamente il governo deve farsene carico per il bene supremo e assoluto della sicurezza del Paese la ringrazio sottosegretario prego collega Ravetto la ringrazio sottosegretario perché conferma anche qui l'avevamo già interrogata sul fenomeno delle baby gang che è più che consapevole del fenomeno e grazie per le sue risposte effettivamente però la nostra interrogazione era proprio volta a evidenziare questo cioè la questione di strade sicure perché interpellata sul medesimo argomento la ministra Lamorgese ieri presso altro comitato nel ribadire che non ci sarebbe stato un ridimensionamento sulla città di Milano ha però detto che ci sarà a livello nazionale e che questa progressione continuerà noi crediamo che da questo punto di vista il ministro avrebbe dovuto essere più incisiva nei confronti del ministro della difesa per impedire l'attuazione di questo piano come lei sa come lega abbiamo proposto già alla legge di bilancio degli emendamenti che purtroppo non sono stati accolti quindi cogliamo con favore e la ringraziamo di questo intervento e anche noi auspichiamo che effettivamente si ripensi questo perché in questo momento in cui nelle città si aggravano i problemi di sicurezza anche relativi alle aggressioni sessuali anche relativi all'immigrazione irregolare che ce lo lasci dire sottosegretario ha un problema reale anche di accesso ai nostri territori perché quando c'era insomma il ministro Salvini lei stesso era al governo una politica diversa aveva determinato dei flussi diversi oggi questi immigrati irregolari non sono né distribuibili a livello europeo dovrebbero essere semplicemente oggetto di un provvedimento di espulsione e come sappiamo quindi bisogna enfatizzare i rimpatri che gli accordi ci sono perché poi arrivano dall'Egitto dalla Tunisia dove accordi già ci sono i rimpatri europei e anche naturalmente il tema sicurezza che lei ci ha sottoposto quindi il messaggio di ridimensionare ancorché ringraziamo anche questa è stata una battaglia del nostro partito e ringraziamo il ministero e lei per diciamo più poliziotti più forze dell'ordine però il ridimensionamento dell'operazione strade sicure e dei militari sul nostro territorio lo riteniamo anche noi un arretramento quindi auspichiamo che si possa risolvere questa situazione procediamo con l'ultima interrogazione a prima firma Prisco prego sì grazie presidente buongiorno sottosegretario come è noto la guerra in Ucraina sta determinando un esodo un'emergenza umanitaria di portata tale da richiedere interventi urgenti per organizzare la macchina dell'accoglienza in particolar modo ci soffermiamo con questa interrogazione sul tema dei minori e di quelli non accompagnati che stanno giungendo nel nostro paese pochi giorni fa il presidente del tribunale per i minorenni di Milano ha sottolineato l'importanza di segnalare tempestivamente la presenza dei minori ucraini non accompagnati perché è fondamentale tracciare anche il sistema di tutela degli stessi ed evitare rischi legati al sfruttamento dei minori da parte della criminalità organizzata è evidente che il sistema di coordinamento dell'emergenza adottato a livello nazionale e regionale diciamo come dire consente un intervento più residuale da parte del ministero dell'interno delle prefetture per fornire le indicazioni e disposizioni univoche a far fronte anche a questo tema e quindi le chiediamo quale sia il piano predisposto per l'accoglienza dei profughi in particolar modo con riferimento alla collocazione dei minori non accompagnati all'inserimento nel sistema scolastico e nelle famiglie degli stessi quali misure per dotare le prefetture delle indispensabili risorse economiche e personali atte a far fronte a questa ulteriore emergenza e se diciamo già vi sono delle misure di contrasto ad evitare l'utilizzo dei minori a fini sessuali oppure come è immerso in alcuni casi addirittura in tema di tratta dei minori stessi grazie Presidente gli onori interroganti chiedono notizie sul piano di accoglienza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina alla data del 29 marzo 2022 i minori non accompagnati ucraini presenti nel territorio nazionale sono 475 di cui 244 femmine 231 maschi dei 475 minori 73 hanno 17 anni 52 16 anni 46 15 anni 266 tra 7 14 anni 38 fino a 6 anni di età evidenzio che i 344 minori non accompagnati sono accolti presso le strutture autorizzate del Tribunale per i minorenni 94 presso le strutture ugualmente autorizzate dall'autorità giudiziaria la regione nella quale si registra il più elevato numero di minori non accompagnati è la Toscana 96 seguita dal 2078 la Lombardia 67 l'Emilia Romagna 48 e il Piemonte 39 tanto premesso il governo ha messo a punto un piano di accoglienza ed assistenza nazionale flessibile suscettibile di adattarsi al carattere non programmato ad ondate degli arrivi dei profughi che si articola in tre componenti piano di accoglienza e assistenza regionali il concorso nazionale e uno specifico piano per minori staniere non accompagnati per quanto riguarda il piano nazionale per accoglienza minori ucraini non accompagnati ricordo che con ordinanza della protezione civile la numero 876 del 13 marzo del 22 si è proceduta la nomina del capo dipartimento per libertà civile e migrazione del ministero dell'interno quale commissario delegato per i minori staniere non accompagnati allo scopo di garantire la maggiore attenzione possibile ad una categoria di soggetti particolarmente vulnerabili ciò anche al fine di favorire la gestione omogenea dell'accoglienza dei minori sull'intero territorio nazionale in tal senso il commissario lo scorso 25 marzo ha provveduto alla redazione di un piano previamente condiviso con tutte le amministrazioni competenti tale strumento ha lo scopo di coordinare le attività svolte da diversi soggetti interessati e assicurerà il costante monitoraggio delle strutture ricettive disponibili e idonee a ospitare i minori staniere non accompagnati in particolare grande attenzione viene posta sull'attività di monitoraggio della presenza di italia minore sul territorio nazionale italiano sul conseguente censimento dei medesimi nel sistema informativo minore del ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché in stretto d'accordo con gli enti istituzionali competenti sulle strutture atte ad assicurare l'accoglienza per quanto riguarda l'inserimento scolastico dei minori ucrani il ministero dell'istruzione ha comunicato che gli uffici scolastici regionali sono impegnati per realizzare l'integrazione scolastica degli studenti in fuga dalla guerra assicurando l'inserimento il più possibile vicino ai luoghi presso cui questi ultimi trovano asilo in tale prospettiva si terrà conto della particolare condizione di fragilità di ciascuno degli esuli accolti e al contempo si avrà cura per quanto possibile di non disperdere la rete di relazioni che uniscono tra loro i profughi e li legano a familiari presso cui trovano accoglienza favorendone il raccordo con le comunità ucraniche stabilmente presenti sul territorio nazionale a tale scopo il ministero dell'istruzione utilizza strumenti digitali che consentono di monitorare l'accoglienza degli esuli dell'Ucraina nelle scuole in particolare è stata realizzata la rilevazione digitale sull'accoglienza scolastica degli studenti ucrani rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale con le fine di monitorare il numero di studenti ucrani accolti dal 24 febbraio i risultati dell'indagine hanno consentito di presporre un cruscotto che visualizza in tempo reale il fenomeno dell'accoglienza nelle istituzioni scolastiche permettendo da un lato alle istituzioni scolastiche di comunicare in tempo reale il dato e dall'altro al Ministero e agli uffici scolastici regionali di disporre tempestivamente di dati statistici per indirizzare le relative politiche educative e di inclusione sociale Risco Sì, grazie delle dovute informazioni mi auguro insomma come è noto in questo caso a differenza di altri di è il fenomeno di fuga reale da una guerra quindi immaginiamo che il fenomeno migratorio possa essere debba essere trattato in maniera differente da quello che avviene con la immigrazione che solo in piccola parte mi riferisco a quella che viene dall'Africa scappa da guerre e persecuzioni e mi auguro che soprattutto su questo tema cioè quello dei minori quello dello sfruttamento vi sia l'occasione per innalzare il livello di tutela e di indagine ovviamente immagino che il governo non possa riferire dell'attività ovviamente istruttoria che gli organi di pubblica sicurezza sicuramente stanno già facendo su questo tema ma mi auguro che si possano dotare veramente degli strumenti organizzativi capillari dello Stato in particolar modo diciamo le prefetture come delegate sul territorio del governo per avere mission chiare dispositivi che consentano da un lato di evitare arrivi strani di minori nel nostro paese e che tutte queste misure vengano fatte con la collaborazione ovviamente dell'autorità giudiziaria e dei enti locali per tutelare il più possibile i minori da eventuali abusi o da eventuali malintenzioni delle attività criminali ecco io ci tenevamo insomma a fare questo tipo di interrogazione non tanto per un semplice gioco delle parti ma soprattutto per portare all'attenzione del ministero dell'interno della commissione del governo questo tema che ovviamente richiede una sensibilità che immagino sia bipartisan da parte di tutte le forze politiche ringrazio assolutamente lo è infatti poi abbiamo già previsto l'audizione del di Curcio e abbiamo richiesto anche la presenza della ministra Lamorgese e faremo sicuramente un focus anche di ANCI appunto delle regioni faremo un focus anche su questo tema dei minori abbiamo così concluso le interrogazioni ringrazio della